Grave incendio distrugge a Palma di Montecaro il mobilificio gulino di contrada al Banazzi, incendi danni che ammonterebbero a circa 3 milioni e mezzo di euro. Il rogo si è sviluppato all'interno dello stabile di Treppiani nelle ore di pausa pomeridiana, a lanciare l'allarme i dipendenti dell'azienda. Le fiamme hanno letteralmente distrutto sia la falagnameria che l'esposizione della ditta di arredamenti. Sul posto, difficili le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata, presenti sul posto anche gli uomini del corpo forestale, protezione civile, polizia e carabinieri le cui caserme sono poco distanti dal luogo dell'ingendio. Alle forze dell'ordine il compito di stabilire la natura del rogo. Intanto l'immobile è stato dichiarato inagibile e il rogo dell'azienda gulino, oltre ad azzerare gli sforzi imprenditoriali dei titolari, potrebbe avere ripercursioni anche sui livelli occupazionali del territorio con i circa 20 dipendenti rimasti senza luogo di lavoro.